Buongiorno, come andate? La giornata di grande festa, di grande festa comune. Noi dobbiamo condividere tutti insieme questa giornata di grandi ricordi, ricordi per aver riconquistato la libertà, per aver superato un periodo triste della nostra vita, drammatico della nostra vita, tutti insieme festeggiamo in questa giornata di sole il 25 per l'anno. La festa non deve essere mai una polemica, soprattutto in un momento di gioia bisogna risentirsi uniti. La festa non deve essere mai una polemica. La festa non deve essere mai una polemica.